Una locandiera moderna e divertente, capace di tenere alta la soglia di attenzione e curiosità fino all'ultima battuta, a cui seguono applausi interminabili. L'opera goldoniana è andata in scena davanti a un grillo colmo di persone. Un classico di Goldoni è riadattato da regista molisano Stefano Sabelli, che ha deciso di modificare il luogo e il tempo, dalla Firenze di metà Settecento al delta del Po dei primi anni Cinquanta. L'idea di ambientarla così all'inizio degli anni Cinquanta è nata da una considerazione, a parte appunto io l'avevo ospitato nel mio teatro Silvia Gallerano con il monologo Con la merda, mi era piaciuta talmente tanta come attrice, me l'avevo vista al Valle Occupata, insomma, è uno spettacolo mi aveva molto colpito, però ho visto in lei le caratteristiche della grande attrice Tutkur, insomma, e da un dialogo con Silvia gli ho detto ma ti piacerebbe fare qualche altra cosa anche di più composito che non un monologo? Lei mi ha detto sì, mi piacerebbe un classico e siccome eravamo in macchina e passavamo vicino la costa Adriatica, però il pomeriggio c'era una specie di riflesso d'inverno nel mare con una nebbiolina, ho detto ma sarebbe bellissimo fare, saresti perfetta per fare l'ogandiera, però magari ambientata negli anni Cinquanta, nel periodo di riso amaro e così è nata, perché in realtà, perché questa trasposizione? In realtà Goldoni la scrive nel 750, intorno al 750, ambientandola a Firenze, in un periodo di crisi della nobiltà, quando si stava affermando in tutta Europa la nuova classe, la borghesia come nuova classe sociale, cosa che poi si è determinata durante la rivoluzione francese, ma nello stesso tipo di cambiamento è quello che accade in Italia dopo il 1948, cioè dopo il primo suffraggio universale che vede coinvolte le donne per l'appunto, in una dimensione in cui le donne, non siamo ancora in epoca femminista, però cominciano a prendere consapevolezza del proprio ruolo, anche sociale, e magari anche cominciano a diventare imprenditrici di se stesse, ecco, insomma è questo che mi ha colpito, serviva, da un lato volevo modernizzare l'opera perché secondo me oggi riproporla fra i lustrini settecenteschi, per quanto il testo non è stato cambiato, il testo di Goldoni, sono state storicizzate, al posto dei Paoli, le lire, insomma queste cose qua, però i dialoghi proprio complessivamente non sono mutati e la sfida era dire questi dialoghi ancora sono modernissimi. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi avrei pure tanti mariti, quanti arrivano a questa locanda? Tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti e tanti mi riesbiscono di sposarmi addirittura. Questo signor cavaliere, rustico come un morso, mi tratta sì bruscamente. A vestire i panni della moderna mirandolina l'acclamata Silvia Gallerano, spesso apprezzata in opere contemporanee. È una sfida, comunque è un classico, pensi a tutte le donne che l'hanno interpretato prima di te e quindi poi chiaramente cerchi di ritornare nel concreto e senza fare confronti pensi semplicemente a lavorare, a provare a dire queste parole di questo testo, cercare di indagare i significati e a riportarli a te, a chi sei tu e alla messa in scena che è stata pensata intorno a te.